Ciao a tutti, come state? Spero che vada tutto bene. Oggi video e news importantissima perché dopo un mesetto posso dirvelo, all'incirca ad inizio anno ho investito in Bitcoin per la prima volta in tutta la mia vita. Prima di partire e spiegarvi il perché ho investito in Bitcoin, quanto ho investito in Bitcoin e cosa ho intenzione di fare nel futuro, ci tengo tantissimo a ringraziare YouOdler, che non è altro che lo sponsor di questo video. Se state cercando infatti una piattaforma che vi permette di comprare cripto ma soprattutto fare staking di quest'ultime, non posso non consigliarvi YouOdler. Attualmente come potete vedere il saldo non ho ancora caricato le cripto sulla piattaforma, lo farò a brevissimo ma dopo vi spiegherò il motivo per il quale caricherò tutte le mie cripto su questa piattaforma. Per chi non lo sapesse tra l'altro YouOdler è sponsor ufficiale del Torino e da buon piemontese, ne sono orgoglioso anche se sono tifoso milanista. Ed è anche uno dei più importanti broker svizzeri in assoluto, infatti in termini di sicurezza siamo in ottimissime mani. Uno dei nuovi servizi aggiunti che secondo me è anche uno dei più interessanti è appunto CloudMiner. Con CloudMiner infatti avrete la possibilità di guadagnare criptovalute attraverso il mining che per chi non lo sapesse non è altro che il processo di verifica delle transazioni nella rete blockchain e l'aggiunta di nuovi blocchi all'interno della catena. YouOdler non ha fatto altro che creare appunto all'interno del proprio sito una sezione divisa in 8 livelli. Come potete vedere qua sono partite dal livello 1 che si chiama Newbie e potete passare al livello 8 che si chiama VIP e all'interno di questa piattaforma qua potrete appunto fare mining. Infatti ogni utente avrà la possibilità di guadagnare bitcoin seguendo semplicissimi compiti. Sostanzialmente il mining qua funziona cliccando su questi che si chiamano appunto blocchi. Per attivarli dovrete avere le scintille o in inglese spark che tra l'altro si sbloccano una a questo livello qua una ogni 24 ore mentre nei livelli successivi si sbloccheranno molto più velocemente. Grazie a queste scintille qua avrete la possibilità appunto di attivare il blocco e avviare di conseguenza il processo di mining. A questo livello qua ovvero livello 1 il mining dura 6 ore ovviamente il tutto è automatico quindi non dovrete più fare niente. Dopo che sono passate appunto queste 6 ore basta tornare all'interno del sito cliccarci sopra e ricevere i vostri bitcoin in modo totalmente gratuito. Considerate che a livello 1 ci mette 6 ore mentre ad esempio a livello 8 ci mette addirittura solo un'ora. Come vi dicevo prima i nuovi clienti partono dal livello 1 e hanno appunto a disposizione due blocchi e ricevono una scintilla ogni 24 ore. Mentre ad esempio solo per farvi capire al terzo livello avrete la possibilità di avere 4 blocchi e la velocità di mining è di 2 ore in meno rispetto al primo livello. Ovviamente nel momento in cui passate di livello avrete la possibilità di ottenere dei pacchetti di benvenuto che vi permettono appunto di sbloccare delle scintille e velocizzare tutto il processo. Ad esempio passando al livello 3 avrete la possibilità di sbloccare 30 scintille. Per iniziare il mining l'utente deve solamente fare 6 cose. La prima è registrarsi e verificare l'account che ci mette all'incirca 3-4 minuti. 2 ricevere appunto il set bonus di scintille cosa che io ho già fatto come potete vedere ho già infatti ricevuto all'incirca un dollaro di bitcoin. 3 avviare il mining. 4 appunto attendere che il mining sia completato quindi all'incirca 6 ore per il primo livello. 5 richiedere semplicemente la ricompensa cliccando appunto sul blocco. 6 raccogliere il maggior numero possibile di scintille in modo da aumentare la potenza di mining. E volendo avete la possibilità di guadagnare di più utilizzando multi all. Se siete interessati quindi alla piattaforma e dopo vi spiego altre cose che vi potrebbero far venire voglia di scaricarla. Vi consiglio di farlo ovviamente tramite questo QR code qua o tramite il link in descrizione in modo tale da supportare sia me sia il canale. Ovviamente vi ricordo che non dovete dimenticare il fatto che le cripto comportano dei rischi quindi fate sempre molta attenzione ai vostri investimenti. Ma ora passiamo al motivo per il quale investito in bitcoin. Allora per chi non lo sapesse io è da diverso tempo che ho intenzione di comprare bitcoin. Avevo già detto non mi ricordo se sul canale o in altre parti ma avevo già detto che avrei avuto intenzione di investire parte della mia liquidità in bitcoin all'incirca intorno a questi prezzi qua. Diciamo che avevo trovato queste aree interessanti dai 12 ai 15 barra 16 mila dollari e quindi sostanzialmente avevo detto che sarei entrato all'incirca con una parte della mia liquidità intorno a questo supporto qua. Poi se fosse scesa avrei incrementato intorno ai 13 mila barra 14 mila e stessa cosa l'avrei fatta intorno ai 12 mila. Non so se sia stata fortuna o no questo lo scopriremo solo in futuro ma sostanzialmente intorno a gennaio ho deciso di comprare ovviamente non vi dirò l'importo preciso però sapete che ho deciso di investire all'incirca il 3 4 per cento di tutto il mio patrimonio in bitcoin. L'ho fatto intorno ai 16 mila dollari la mia intenzione non è assolutamente quella di venderlo anzi metterò in staking tutte le crypto che ho. Per chi non sapesse tra l'altro Uodler vi permette di mettere in staking appunto le crypto ad esempio su bitcoin avete la possibilità di mettere in staking e guadagnare all'incirca un 3 per cento anno che non è assolutamente male. Ma se voi ad esempio mettete in staking crypto come USDT o USDC avete la possibilità di ricevere interessi molto più alti all'incirca dell'8 per cento mentre Ethereum qua ha solo un 4 per cento. La mia idea è quella semplicemente di tenere solamente bitcoin metterlo in staking per tutta la durata del mio investimento quindi dover riuscire a ottenere all'incirca un 3 per cento anno dalla mia liquidità ovviamente investire in bitcoin. L'ho fatto principalmente anche nel momento in cui il fear and greed index ci stava indicando il fatto che ci trovavamo in una situazione dove sostanzialmente la gente aveva tanta paura ed è quello il motivo principale. Ovviamente dovuto anche ad alcuni indicatori tecnici che vi ho detto prima ma che vi dirò anche successivamente sostanzialmente questo è il motivo per il quale ho deciso di investire in bitcoin. Un altro indicatore che mi ha suggerito l'acquisto è stato l'R6 infatti a gennaio era intorno ai 30 quindi sostanzialmente ci stava dicendo che bitcoin era in iper venduto e quindi come ci insegna il grande Warren è proprio in questi casi qua ovvero quando il sangue scorre per le strade che bisogna investire pesantemente. Ovviamente questi non sono consigli finanziari probabilmente se dovessi dirvi un livello che potrebbe farmi iniziare a vendere visto che non ho fretta e visto che è una percentuale piccola del mio patrimonio direi che potrebbe essere intorno ai 100.000 dollari. Dovesse raggiungere questa cifra qua non so in quanti anni o comunque dovesse farla probabilmente venderei la metà dei miei bitcoin e basta. Per il resto penso di voler tenere quella appunto percentuale di liquidità e del patrimonio in generale in bitcoin, in cripto in generale e niente fatemi sapere qua nei commenti cosa ne pensate. Detto questo spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel like, un commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!